Questa volta l'allerta meteo non ha fallito. Nessun falsa allarme sulla Sicilia orientale dalla serata di ieri si è realmente abbattuto un Medicaid in uragano mediterraneo pienamente previsto dall'allerta rossa diramata ieri dalla protezione civile regionale. Danni e disagi sin dal mattino si segnalano nel Catanese e sono state quanto mai opportune le ordinanze di chiusura di scuole, università, uffici pubblici, ville comunali e cimiteri siglate dai sindaci. Nessuno ha esitato nei centri dell'area Simetino e Tanea. Dal capoluogo a Bronte, ultimo a firmare, passando per Mister Bianco, Motta, Belpasso, Paternò, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Biancavilla, Adrano. La protezione civile aveva emesso l'avviso regionale per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico piccoli bacini e idraulico bacini maggiori, valido dalle 16 di mercoledì 8 febbraio sin alla mezzanotte di giovedì 9. Per la Sicilia orientale oggi il rischio è rosso, arancione per la Sicilia centrale, giallo per il versante occidentale. Sin dalla mattinata vento e pioggia hanno provocato danni e disagi. Sulla circonvallazione di Catania in corrispondenza del quartiere di Nesima un albero è collassato al suolo, per fortuna mentre non transitavano veicoli, occludendo interamente la carreggiata. Pali a terra lungo la provinciale 92 Nicolosi Rifugio Sapienza che è stata chiusa alla circolazione stradale. In tutti i comuni si segnalano danni e pericoli per alberi, pali, segnali stradali, cartelloni pubblicitari caduti o in procinto di cadere. Possibili ritardi e disagi sui voli in arrivo e in partenza vengono segnalati dalla società che gestisce lo scalo di Catania Fontana Rossa. A Catania per aiutare senza fissa dimora in queste giornate di freddo e maltempo è stato allestito dalla Croce Rossa con l'ausilio dei volontari e del personale comunale della protezione civile uno spazio al coperto nel centro fieristico Leciminiere. Gli spazi sono dotati di servizi igienici e riforniti di pasti caldi dalla Caritas Diocesana. Tutti i cittadini chiamando al 334-694-0411 numero attivo dalle 8 alle 20 possono segnalare i senza fissa dimora in difficoltà e saranno i volontari dell'unità di strada a verificare e ad accompagnarli nella struttura messa a disposizione dalla città metropolitana.